Ciao ragazzi, benvenuti al primo video del mio blog. Mi presento, sono Giacomo Bindi. Dove siamo? Beh, lo scenario è ancora un po' amatoriale, però vi assicuro che il contenuto dei miei video sarà molto interessante. Inizio dicendovi che la parata non è soltanto un riflesso istintivo, ma più delle volte risulta un gesto insegnato e costruito nel tempo. Amici, parenti e tifosi vedono soltanto la grande parata all'incrocio dei pali, ma quanti tra di loro riescono realmente ad apprezzare la magia del gesto di preparazione? L'espressione che segui dopo ogni grande intervento è, wow che miracolo, mentre per noi tenditori diventa fammi vedere un po' come hai fatto. Bene ragazzi, adesso vi aspetto nella sezione Tutore della parata all'interno del mio blog, così insieme potremo andare a vedere come grandi portieri sono riusciti nei loro provvidenziali interventi. Seguitemi!